coronavirus a scuola caso positivo al marconi quarantena per studenti e professori truffe online e ai danni degli anziani la polizia di panno denuncia 5 uomini carcere di villa fastigi col maltempo si allagano alcune celle della struttura lo sport ripresa per vis e vl borzan sarà sottoposto al trapianto di cuore una buona serata a tutti i telespettatori di rossini tv il canale 633 del digitale terrestre buonasera a chi ci segue in streaming sul nostro sito www.rossinitv.it e chi ci guarda in diretta dalla nostra pagina facebook subito in apertura torniamo a parlare di scuole perché dopo i casi che si sono registrati la scorsa settimana in provincia in alcuni istituti primari è arrivata la conferma che anche uno studente del liceo scientifico marconi è risultato positivo al covid 19 obbligatoria quindi la quarantena per compagni e anche per i professori sentiamo i dettagli in questo primo servizio sono trascorse ormai due settimane dalla riapertura delle scuole anche nella provincia di pesaro urbino ogni istituto della provincia si è dotato di strumenti e regole necessarie a garantire le norme anti contagio da covid 19 come per esempio l'installazione di termoscanner utili a rilevare la temperatura corporea degli studenti all'ingresso dell'istituto diversa da scuola a scuola anche la scelta relativa al rientro totale o parziale dei ragazzi alcuni istituti hanno optato per le classi dimezzate grazie anche all'utilizzo della didattica a distanza e dello streaming mentre altri hanno deciso di reintrodurre in modo integrale le lezioni in presenza tutte le precauzioni del caso non hanno però bloccato i primi casi positivi di coronavirus riscontrati tra gli studenti durante la scorsa settimana sono stati tre gli episodi in provincia tutti registrati all'interno di istituti primari prima al pascoli di gallo di petriano poi all'istituto mattei di acqualagna e anche a della rovere di urbino proprio per quest'ultimo i circa 20 bambini e relativi insegnanti della classe poste in quarantena potranno tornare a scuola a partire dal prossimo giovedì sono infatti risultati tutti negativi i tamponi effettuati a compagni e docenti della bambina che aveva contratto il covid se fino ad oggi casi di positività sono stati riscontrati unicamente in istituti primari nel fine settimana è scattata la quarantena anche per una classe del liceo scientifico marconi di pesaro dove uno studente 14enne frequentante una classe prima è risultato positivo al virus l'alunno ha manifestato i primi sintomi da covid nella propria abitazione e la famiglia del ragazzo ha prontamente allertato il medico di base per richiedere il tampone i test a cui saranno sottoposti i compagni e docenti sarà un banco di prova per l'intera scuola per verificare se le misure adottate si potranno considerare sufficienti per scongiurare il contagio tra le mura dell'istituto come spiega il dirigente riccardo rossini la classe in quarantena fortunatamente non tutta la classe perché noi siamo al 50 per cento 50 in presenza 50 a distanza quindi soltanto gli alunni compagni che erano con lui nei primi due giorni prima che si sentisse male sono finiti in quarantena e seguono lezioni a casa tamponi saranno effettuati oggi quindi nel giro di un paio di giorni avremo anche il risponso e così vedremo se tutte le procedure sanitarie messe in atto di distanziamento il termoscanner il 50 per cento funzioneranno per la mettere in conto lo sapevamo eravamo pronti speriamo che però di casi così ce ne siano pochi perché altrimenti andiamo in crisi perché oltre agli studenti ci sono poi docenti che sono finiti in quarantena i docenti faranno lezione da da lontano a distanza però tutto è abbastanza complicato dal punto di vista logistico e organizzativo quindi un conto gestire un caso incontro gestirne tre quattro cinque l'invito dei presidi rimane quello di tenere alta l'attenzione e rispettare le regole anti contagio non soltanto negli spazi scolastici e gli aggiornamenti delle ultime 24 ore per quanto riguarda il covid 19 sul territorio marchigiano ci parlano di un drastico calo dei tamponi effettuati in regione sono stati infatti testati 382 test di cui 217 nel percorso nuove diagnosi e 165 nel percorso guariti i positivi sono cinque nel percorso nuove diagnosi ma nessuno di questi proviene dalla provincia di pesaro e urbino e ora la cronaca perché il commissariato della polizia di stato di fano ha implementato i controlli e le investigazioni per il reato di truppa controlli che hanno condotto alla denuncia di cinque persone per quanto riguarda il settore delle truffe online le indagini hanno portato all'identificazione di quattro cittadini italiani il modus operandi dei soggetti era sempre lo stesso gli aspiranti acquirenti in seguito a contatti telefonici con i truffatori e l'invio della somma di denaro richiesta non ricevevano la merce acquistata e i malintenzionati scomparivano nel nulla per le truffe ai danni degli anziani invece i poliziotti del commissariato hanno denunciato un soggetto di origine campana il quale già noto alle forze dell'ordine era riuscito a raggirare un anziano fanese il giovane è stato denunciato a piede libero per truffa e furto e sottoposto alla misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio emesso dal questore di pesaro e rimaniamo a pesaro perché continuano i disagi nel carcere di villa a fastigi dopo le aggressioni ai danni degli agenti di polizia penitenziare ma anche dei medici della struttura in questo fine settimana a causa del maltempo che si è registrato si sono allagate diverse celle della casa circondariale ed è saltato l'impianto elettrico una problematica non da poco considerato il sovrappollamento denunciato da diverse sigle sindacali ormai da tempo a parlare nella prossima intervista è il segretario regionale del sindacato autonomo polizia penitenziaria nicandro silvestri questo istituto pesarese venerdì 25 purtroppo in ragione dei lavori di rifacimento dei solai dell'istituto attesi bisogna dire da diverso tempo un'intera sezione detentiva sia completamente allagata rendendo necessario lo spostamento dei detenuti nei locali di fortuna la situazione alle giornate di sabato e domenica si è altrimenti aggravata purtroppo con l'interessamento delle infiltrazioni d'acqua anche in altre sezioni detentive e al circuito elettrico i detenuti sono allocati in situazioni di fortuna e siamo in attesa stiamo sollecitando anche noi come sindacato ma auspichiamo che la direzione faccia la sua parte in questo senso il progettato regionale per ubicare quei detenuti in altre strutture penitenziari della regione per questo motivo noi chiediamo immediatamente al progettato dell'amministrazione penitenziaria di lo sfollamento dei detenuti che sono ubicati nel piano desentivo a cerchio dei lavori e attenzioniamo per un'ispezione ministeriale il dipartimento dell'amministrazione presidenziaria affinché si prenda atto una volta per tutte l'incuranza e l'approssimativa gestione dell'istituto dalla parte dell'autorato esigente del carcere di Pesaro. Episodio che arriva dopo diverse aggressioni anche ai danni degli agenti di polizia penitenziaria che operano all'interno del carcere di Villa Faltigi e che sono stati diretti interessati anche di questo nuovo spiacevole evento. Sì, purtroppo nel carcere di Pesaro stiamo a rappresentare più volte la situazione deficitaria del personale che è oggetto di aggressioni, minacce, ma di tutto l'istituto perché la situazione deficitaria di Pesaro riguarda la gestione di tutto l'istituto che noi contestiamo da qualche anno, da un anno e passa con manifestazioni, astensioni della mensa e soprattutto interrompendo anche le relazioni sindacali con il direttore che secondo noi è colpevole di questa situazione e oggi assistiamo anche a un escalation delle ricaminazioni dei detenuti che ultimamente hanno anche minacciato il personale medico. Soprattutto assistiamo anche a un depotenziamento della struttura sanitaria all'interno del carcere in quanto per i fini di settimana non viene più garantito l'assistenza medica in loco. Poi si andranno anche a valore dei cittadini perché se un detenuto ha bisogno di un intervento medico nel fine settimana si è costretti a far intervenire la guardia medica e se non basta la guardia medica è il 118. E continua il danneggiamento della targa intitolata Bettino Craxi nei giardini di Piazzale Matteotti. Dopo gli ultimi avvenimenti registrati appena qualche settimana fa, a partire da ieri la targa risulta completamente danneggiata tanto che il nome dell'ex presidente del consiglio risulta essere quasi illeggibile. Sotto il nome di Craxi è poi comparsa un'incisione probabilmente realizzata con una chiave che recita la parola ladro. Fantastica apertura per la raccolta del tartufo bianco ad Acqualagna perché questa mattina è stata trovata una pepita da mezzo chilo nelle colline intorno alla cittadina. Si tratta di un'unica pezzatura di 500 grammi di qualità elevatissima dell'azienda Acqualagna Tartufi, specializzata nel commercio e nella trasformazione del tartufo da oltre 30 anni. Grande successo per la tappa pesarese di Swing, Rock and Love, spettacolo che ieri nella cornice del Teatro Rossini ha visto protagonista il pianista e cantante pesarese Matthew Lee. Il concerto, nato dall'ultimo lavoro discografico dell'artista e inizialmente previsto lo scorso aprile sospeso per l'emergenza sanitaria Covid-19, si inseriva nell'ambito della rassegna Teatro Oltre. E ora andiamo a Fano perché è stato presentato il bilancio della stagione estiva 2020, dati senz'altro positivi per il turismo che dimostrano come il Covid-19 abbia di certo condizionato l'estate che si è appena conclusa, ma anche come le iniziative messe in campo abbiano saputo attrarre ugualmente tanti turisti. Il servizio è di Simone Celli. Tutto bene nonostante tutto. È positivo il bilancio del turismo fanese al termine di un'estate che di certo non dimenticheremo. Nell'anno del Covid, la città della fortuna ha saputo fermare l'emorragia anche grazie a una serie di eventi da vivere all'aria aperta, senza dimenticare le grandi manifestazioni estive, che sono state ridimensionate nella forma, sì, ma non nella sostanza. Una resilienza che ha trovato il plauso di albergatori ed esercenti, perché non ci si è limitati a salvare il salvabile, ma si è riusciti a rimodulare l'offerta turistica attraverso un cartellone che ha saputo attirare l'attenzione di circa 70 mila persone. È stata una strana stagione, ma ce l'abbiamo fatta. Sicuramente ci si prospettava una stagione veramente molto difficile, però poi direi che l'humus della città ne è uscito fuori. Abbiamo dato la possibilità a tutte le attività economiche di utilizzare spazio pubblico. Oltre 200 sono state le richieste, per cui la città ha veramente cambiato forma, con tanti locali che hanno preso spazio anche in luoghi molto caratteristici della città. Questo, insieme a tutte le attività che sono state realizzate, insieme a questo progetto, fanno un plenare che ha preso vita sia nei contenitori culturali della città, gli nomino la Darsena Borghese, la Rocca Malatestiana, l'ex chiese di San Francesco, il Bastione Sangallo, l'Anfiteatro Rastat e l'Arena BCC, per un totale di 133 serate che hanno portato fisicamente 23.000 persone ad ascoltare musica o altri spettacoli. Poi tutta una serie di eventi, gli eventi più importanti, quelli che hanno saputo attirare anche contributi direttamente dal Ministero, come il Fondo Fusso, come i fondi FEAMP e quindi hanno arricchito la città, hanno dato lavoro alle attività economiche, ma allo stesso tempo abbiamo dato la possibilità alle attività culturali, alle imprese per eventi di lavorare. Quindi di eventi come Symphony Pop Festival e Tracce, che si è tenuto in una location veramente particolare come Montegiove, il Fano Jazz by the Sea, che si è inventato il Live in the City, che veramente ha portato musica in tutta la città, Fano Fellini, che ha richiamato l'attenzione su questo eccezionale regista, che ha avuto particolari rapporti anche con Fano, le Serate Medievali, che ha rivisto il Palio delle Contrade, Passaggi Festival, che ha mantenuto le location eccezionali della città di Fano e quindi ha fatto lavorare tutte le attività economiche, così come l'incontro polifonico malatestiano, il Brodetto Fest che quest'anno ha fatto lavorare i ristoratori della città, il Mercoledì degli Artisti, per un totale di 10 mercoledì, 50 spettacoli, 100 artisti coinvolti, per un totale di 5.000 persone sedute e ancora i concerti d'organo, insomma in presenza circa 70.000 persone presenti con un indotto veramente molto più importante. Quindi quella che all'inizio si prospettava una stagione veramente molto difficile, alla fine una stagione che è riuscita a recuperare terreno, è riuscita a far lavorare le attività economiche, ha portato turisti nella nostra zona, grazie anche alla promozione che abbiamo fatto di Fano Vacanza Sicura, insieme a Giuseppe Iarc, per mitigare gli effetti del Covid nelle località più appetibili per il turismo che può arrivare nella nostra città. Quindi una stagione molto bella e interessante, Fano Planner ha funzionato e io devo ringraziare tutti gli operatori, tutte le attività economiche, il tavolo economico, gli operatori culturali e le imprese per eventi, perché insieme, sinergicamente, abbiamo fatto insomma una stagione veramente molto importante. E ora siamo alla pagina sportiva perché il fine settimana è stato carico di appuntamenti importanti per tutte le realtà locali, a partire dalla ripresa del campionato per la Vis Pesaro e per la VL. Nel prossimo servizio vi aggiorniamo inoltre sulle condizioni di salute del direttore generale della Vis Pesaro, Vlado Borrozan, che è stato colpito da un arresto cardiaco proprio mentre stava assistendo al primo match dei biancorossi. Vediamo. Lo sport pesarese ha ufficialmente rialzato il sipario nell'ultimo fine settimana con la ripresa dei campionati e degli importanti appuntamenti che hanno visto come protagoniste assolute Vis Pesaro e VL. Cominciando col calcio, i biancorossi allenati da Galderisi hanno aperto il girone di Serie C scendendo sul campo dello Stadio Benelli per affrontare gli avversari del Legnago. Un match segnato in primo luogo dalla paura, perché dopo poco il pischio d'inizio del secondo tempo, il direttore generale della Vis Pesaro, Vlado Borrozan, ha accusato un malore mentre stava assistendo alla partita dalla tribuna. Un arresto cardiaco, dal quale il DG si è salvato grazie al rapido intervento e al massaggio cardiaco praticato gli dal dottor Vittorio Gemmellaro, responsabile sanitario dei biancorossi, con l'aiuto dell'assistente Davide Patrignani. Dopo il primo soccorso è arrivato il rapido trasferimento in ambulanza all'ospedale di Fano, dove Borrozan è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Nelle ore successive, la stessa società, attraverso l'invio di un comunicato stampa, ha informato tutti i tifosi del miglioramento delle condizioni di salute del dirigente, al quale sono stati recapitati centinaia di messaggi, a cui si allega anche quello della redazione di Rossini TV, per una rapida ripresa e guarigione. Lo stesso Borrozan ha poi ringraziato tutti per il tanto affetto ricevuto in queste giornate, soprattutto lo staff medico della Vis Pesaro e dell'ospedale Marche Nord. Il DG sarà ora trasferito all'ospedale di Cardiochirurgia Gallucci di Padova, dove nei prossimi giorni dovrà affrontare il trapianto di cuore. Il match dei Biancorossi è poi terminato con un pareggio. Due a due il risultato finale, commentato ai nostri microfoni da coach Galderisi e da Valerio Nava, autore del primo gol della partita. Ce ne andiamo conto di cosa vuol dire giocare il campionato di Ciro. La prestazione i ragazzi la fanno sempre e questo mi fa molto piacere. Credo che al primo tempo abbiamo fatto anche delle cose buone, ma abbiamo sfruttato male le situazioni. Tante volte sugli esterni avevamo la possibilità di fare più male, tante palle ferme che non abbiamo sfruttato bene, però tutto sommato l'approccio è stato buono. Alla lunga loro avevano più gambe, più partite nelle gambe, si è visto. È stata una prestazione positiva, ci sono delle cose da migliorare, però è la prima partita e potevamo vincerla, perché a cinque minuti alla fine ormai ci credi. Anche loro qua hanno avuto le loro occasioni, quindi nel complesso è un punto che va bene entrambi, anche se, ripeto, arrivati a quel punto così vicino al traguardo, insomma, da fastidio, però bisogna migliorare anche sui dettagli. Buon risultato anche per il Fano, che nel primo match della stagione sul campo del Perugia registra un 2-2, soddisfatto il mister Granata Marco Alessandrini. Primo impegno ufficiale della stagione anche per la Carpegna Prosciutto Basket, che in una deserta vitrifrigo arena, con il malcontento di tifosi dirigenza per le porte chiuse del primo match, ha perso contro Sassari per 95-85. La resa di Biancorossi è arrivata soltanto nell'ultimo quarto, dopo aver giocato una gara testa a testa contro un banco di Sardegna che si è giudicato il match negli ultimi dieci minuti. Queste le parole di Coach Repegia alla fine dell'incontro. Vorrei fare prima di tutto complimenti a Sassari per la vittoria che hanno fatto meritando il 100% perché non sono andati in confusione, primo tempo quando abbiamo avuto buon ritmo e nello stesso tempo hanno saputo mantenere vantaggio l'ultimo quarto. Da nostra parte non sono soddisfatto, non sono soddisfatto per due cose. Prima di tutto sappiamo che loro sono più fisici, più atletici, più grossi. Ma subire 95 punti giocando a casa contro ognuno non mi piace, non mi piace perché abbiamo subito tanti canestri con tanti palleggi con spalle e canestro. da loro parte è facile appoggio e nello stesso tempo tanti punti dopo facile passaggio per roller senza rotazione dopo un passaggio facile canestro. Onestamente difesa non è stata a livello per poter vincere contro un avversario contro Sassari. E parliamo ancora di sport nello specifico di basket perché il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha risposto questo pomeriggio alle dichiarazioni di Umberto Gandini, presidente della Lega Basket Serie A, il quale nelle scorse giornate aveva dichiarato l'intenzione di non voler tornare a Pesaro per l'edizione 2021 delle Final Eight, preferendo una location più prestigiosa, capiente e centrale per il movimento. Il primo cittadino di Pesaro ha definito le parole di Gandini irrispettose nei confronti di una città che lo scorso anno ha dato grande accoglienza ad un evento sportivo importante, rimarcando poi come Pesaro sia una delle sedi storiche del basket italiano e ricordando il successo mediatico e di pubblico raccolto il febbraio scorso dalla manifestazione. E sempre questo fine settimana è stato presentato il nuovo progetto della Blue Volley Pesaro, rinnovato lo staff tecnico e dirigenziale ma soprattutto confermata la partecipazione della squadra al campionato regionale di Serie C femminile. Il servizio è di Daniele Sacchi. Prove di ripartenza per la Blue Volley Pesaro. Sabato, nella cornice della sede della Falmar, main sponsor della società pallavolistica femminile assieme a Otello Battistelli Compressori, si è alzato il sipario sulla società pesarese di pallavolo che riparte con una nuova società, con Alfonso Petroselli alla presidenza e con una squadra rinnovata sotto la guida tecnica di Angelo Musumeci. Pronta la squadra per la Serie C, pronto tutto un ampio movimento femminile di bambine e ragazze del settore giovanile. Le prospettive sono sicuramente positive, di grande livello, speriamo di prima di tutto ripartire con il fatto del Covid, è un'incognita questa qui, però la volontà c'è, le ragazze ci sono, abbiamo cercato di darci un'organizzazione dirigenziale che potesse vedere tutte le normative che prevede il Covid per poter appunto rientrare in palestra e partire con una nuova stagione. Quello di Pesaro è un terreno tradizionalmente fertile per la pallavolo femminile, immagino partiate anche con ambizioni da questo punto di vista. Sì, ambizioni importanti, faremo sicuramente tutti i campionati sia giovanili che di categorie con Ciliegina sulla torta quest'anno che è la prima squadra che parteciperà al campionato di serie C, però faremo anche la serie D grazie soprattutto ai nostri sponsor che ci danno una mano in questo. Ho venuto a lavorare in maniera diversa, allungando un po' perché i tempi ce lo permettono, visto che il campionato comunque ha una ripresa abbastanza lontana, però sicuramente dobbiamo lavorare in maniera diversa rispetto a quello che è la normale procedura di un campionato fatto in condizioni sicuramente diverse, però la società ci ha messo a disposizione tutti i mezzi possibili. Noi dal nostro canto cerchiamo di fare il meglio per far sì che almeno sotto questo profilo si facciano le cose come devono essere fatte. Quando si dà un aiuto un po' nel mondo dello sport in generale, chiaramente è un bene per tutti, soprattutto in questo periodo qua un po' difficile, con delle persone in amicizia che abbiamo in comune, sono entrato quest'anno a dare una mano a questa società, a Blue Wallet, che chiaramente ha degli obiettivi ben precisi, chiaramente essendo per me un mondo nuovo non ho avuto la possibilità di conoscere il vecchio presidente che chiaramente è scomparso e credo da come è stato parlato era una grandissima persona e chiaramente tutto lo staff ho visto che è stato intorno a lui, purtroppo è voluto mancare, però diciamo con grande orgoglio ho visto che la dirigenza si è rimborcata alle maniche, ha voluto proseguire su questa strada in suo nome e chiaramente anche da parte mia dare una mano sul lato economico, chiaramente non posso far di più se non poi comunque poter partecipare a qualche incontro sulla tribuna. E in chiusura vi mostriamo quest'ultimo servizio dedicato all'inaugurazione di MOVENS, il nuovo centro di medical fitness specializzato in percorsi di esercizio fisico rivolto a soggetti con patologie croniche come malattie cardiovascolari, respiratorie e altre. Le interviste sono di Marco Cadeddu. Sabato 26 settembre siamo a Villa Fastigi, inaugurazione della sede di MOVENS Stile di Vita, una innovativa palestra specializzata in attività fisica adattata. Ma ce ne parla il dottor Matteo Francolini, fisiologo clinico responsabile della struttura. Sì, effettivamente siamo un'innovazione nel senso che a differenza della palestra classica ci prendiamo carico dello stato di salute delle persone e soprattutto di quelle persone che possono avere problemi in termini di cronicità, ovvero essere affetti da quelle condizioni come cardiopatie oppure problemi metabolici o altro che in condizione di stabilità clinica però devono e hanno l'esigenza di mantenere il loro stato di salute più a lungo possibile e l'esercizio fisico adattato, quindi finalizzato e mirato ad affrontare queste condizioni serve proprio a questo, cioè a fare in modo che la qualità della vita, lo stato di salute di queste persone possa essere portato più a lungo possibile nel migliore dei modi attraverso uno degli strumenti ormai riconosciuto dalla bibliografia scientifica che è l'esercizio fisico e in senso generale tutti quelli che sono gli aspetti di un sano stile di vita quindi anche gli aspetti psicologici, l'aspetto alimentare che attraverso un network di professionisti che ruotano attorno a Moves è possibile affrontare. Qui siamo in questa nuova zona di Villa Fastigi in piazza Tarquinio Provino siamo praticamente proprio a fianco all'RSA, quindi proseguendo la strada ci trovate subito comunque i contatti sono anche per chi è pratico dell'utilizzo di internet anche nel nostro sito che trovate appunto facilmente digitando Movens, Movens Pesaro nel motore di ricerca e ci trovate assolutamente. Siamo aperti dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 20 e quello che abbiamo qui in dotazione sono macchinari, ergometri tecnicamente chiamati ciclette, tapirulan, macchinari sumetrici e altre attrezzature per affrontare appunto questo tipo di attività e inoltre siamo dotati di tutte quelle che sono le strumentazioni per il monitoraggio di questa attività perché la cosa poi è ancora più importante è poter essere monitorati durante l'attività per fare in modo che l'attività stessa sia la più sicura possibile. A proposito di noto intoraggio e concludo vedo anche un'attività di supporto psicologico al recupero fisico. Assolutamente, è uno degli aspetti nel sistema complesso dell'essere umano cioè quello appunto psicologico e quindi è assolutamente possibile avere anche la consulenza qualora sia necessaria o comunque qualcuno lo ritenga come tappa fondamentale del proprio percorso all'interno di questa realtà ecco la possibilità appunto di essere supportati anche da professionisti del settore dell'ambito psicologico. Movens si occupa prevalentemente di quelle che sono il contrasto delle patologie cronico-degenerative che quindi per spiegarci meglio sono tutte quelle patologie come quelle cardiache, respiratorie o metaboliche come il diabete ma anche oncologiche o ad esempio quelle neurodegenerative e diciamo che si occupa della fase estensiva di queste patologie cioè quando sono patologie stabilizzate e sono uscite dal periodo riabilitativo e quindi le accompagna in quello che sarà un mantenimento grazie allo stile di vita di esercizio fisico, alimentazione e un trattamento psicoterapeutico per quello che sarà il resto del percorso di queste persone. Dal punto di vista tecnico avete un accordo con i medici di medicina generale chiaramente i medici di famiglia, l'ASUR, la struttura qui accanto? Stiamo cercando di lavorare visto che siamo appena partiti stiamo cercando appunto di creare delle sinergie esattamente con le figure che avete elencato quindi quelli di medicina, i medici di medicina generale con la struttura, l'RSA che abbiamo qui di fianco infatti abbiamo già avuto i primi approcci con i responsabili di struttura e sicuramente i medici specialisti che sono quelli che gravitano attorno alle persone che appunto hanno quelle patologie che elencavo precedentemente e con l'ASUR non stringiamo direttamente rapporti formali perché l'ASUR essendo pubblica può stringere rapporti solo e esclusivamente con associazioni che operano nel no profit però ad esempio forniamo il servizio di quindi persone, di kinesiologi che si occupano di fare attività per quelle associazioni che sono convenzionate invece con ASUR che sono associazioni che appunto riguardano quei pazienti quindi oncologici come ad esempio abbiamo già avuto con l'associazione noi come prima che si occupa di carcinoma mammario Io faccio i complimenti a questi professionisti che hanno deciso di aprire questa struttura originale, nuova che mette al centro la persona e il benessere quello che può essere sia la prevenzione di certe malattie ma quello che è anche il percorso che accompagna persone affette da malattie croniche non trasmissibili abbiamo visto insomma un progetto ampio che non riguarda solamente persone in stato diciamo già con patologie importanti ma riguarda anche quello che può essere la prevenzione e l'accompagnamento di un bambino anche che ha una patologia legata a problemi cardiaci quindi complimenti veramente per questa scelta importante e lungimirante nella nostra città Bene, questo era davvero il nostro ultimo servizio per questa edizione del nostro telegiornale vi ricordiamo però di rimanere su Rossini TV anche per la prima serata perché alle 21.15 e poi in replica alle 22.30 andrà in onda proprio su Rossini TV una nuova puntata della TV dei viaggi L'informazione torna invece puntuale in diretta domani mattina alle 7.20 con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini grazie per averci seguito anche in questa edizione del nostro telegiornale e vi auguriamo un buon proseguimento di serata su Rossini TV